Siamo in compagnia del dottor Giuseppe Caccioppoli che dal 1950 al 68, quindi per ben 18 anni, è stato frequentatore del convento dei Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo in quanto è stato conquistato dalla figura di Padre Pio e dopo questo periodo di frequentazione, quindi finché è vissuto Padre Pio, ha continuato a frequentarlo idealmente perché è diventato una sorta di vero e proprio ricercatore di tutte le notizie che riguardano appunto il Santo, colui che poi è diventato Santo, vale a dire San Pio da Pietrelcina. E quindi insieme a lui, grazie alle sue testimonianze, cercheremo di ricostruire un po' alcuni aspetti della vita di Padre Pio, in particolare alcuni doni che Padre Pio aveva e l'utilizzo che questi doni lui faceva per il bene degli altri. Allora, cominciamo con la capacità di Padre Pio di vedere e di sentire cose che umanamente non era possibile vedere e sentire. Ci sono tanti episodi della vita di Padre Pio in cui lui dimostrava come se stesse sempre là, pure se era altrove. Per esempio, prendendo il libro di Padre Ia, Marcellino Ia Senzannido, riportava un episodio che gli aveva detto Padre Federico Carrozza, che era uno dei primi studenti di Padre Pio e quindi lo conosceva bene. Qui Padre Federico Carrozza riportò che un giorno sul piazzale ci stavano due donne che discutevano di Padre Pio e uno diceva che Padre Pio sa tutto e l'altro replicava che questo non è possibile. E quest'ultima andò a confessarsi qualche giorno dopo e senza che lui accennasse all'argomento si sente dire da Padre Pio, attraverso Gesù io vedo e sento tutto, io sto a vedere tutto quello che fate e sentire tutto quello che dite. Quindi lo stesso Padre Pio per certi versi ammetteva di avere questo dono, grazie a Gesù di vedere e sentire tutto. Una delle specialità di Padre Pio era di non mentire mai, di non diminuire mai le cose straordinarie di cui lui era parte. Diceva sempre la verità e immediatamente. E così come in tanti casi, in questi tanti casi. Quindi lui sapeva anche di essere stato messo in discussione sulla sua capacità di sapere tutto e quindi ha dato questa risposta. Ci sono quindi altri casi che confermano quanto Padre Pio ha ammesso? I casi sono tantissimi, tanto per riportarli alcuni semplici, come Giovanni Siena di San Giovanni Rotondo. Nel suo libro L'angelo di Dio riporta che quello che gli disse Monsignor Orlando, Monsignor Orlando, chiamiamo Monsignor Giuseppe Orlando, lui aiutò a costruire la casa sollievo, quindi stati moltissimi anni qui a San Giovanni Rotondo prima di ritornare al Pietralzino. E Monsignor Orlando raccontava di un contodino di sua conoscenza che, preso una sera da un fortissimo mal di denti, diede di piglia una scarpa e in Franza il quadretto appeso al capezzale nel quale c'era una fotografia di Padre Pio. E qual era il motivo? Perché Padre Pio era stato sordo alle sue disperate, insistenti invocazioni. Dimentico del gesto irriverente, qualche mese dopo il contodino si recò a San Giovanni Rotondo. Ma dopo essere stato guarito dal mal di denti? Sì, guarito dal mal di denti. I dettagli sono interessanti, non sono scritti qua. Lui aveva conosciuto Padre Pio sin da ragazza, era nello stesso paese, e la moglie l'aveva forzata, prega Padre Pio, vedrai che ti aiuta. Lui pregò, non ottenne quello che voleva e tirò la scarpata. Poi quando guarì con il mal di denti andò con la moglie a trovare Padre Pio e si inginuò e si confessò. E a quel punto là lui non aveva il tempo di dire niente, che Padre Pio gli disse subito, hai questo coraggio dopo quella scarpata che mi è arrivata. E quello capì che veramente aveva fatto una cosa poco buona. E così noi capiamo come era possibile che Padre Pio sapesse queste cose. Tutt'ora non abbiamo una risposta. E la risposta era come dici tu, è una sola. È la parola idonei dello spirito che gli dà e si mostrano così. Perciò noi dicevamo da tanti anni a stare a San Giovanni a vedere e che succedeva quando ci naturonevamo. Ma è vero, non è vero. Lo straordinario era comune. Non pensavamo mai. Uh, questa, come è possibile? No, era naturale. Il sovrannaturale era naturale. Anche qualche religioso, qualche sacerdote ha fatto esperienza di questi doni particolari di Padre Pio, di questa sua capacità di vedere e di sentire tutto. Sì, abbiamo l'esempio di Don Pasquale Cattaneo che era arrivato alla stazione di Foggia e stava per prendere la corriere per arrivare a San Giovanni Rotondo. E come facevamo tutti, quando arrivavamo a Foggia incominciavamo a pensare oh, io mi dovrei confessare. Incominciavamo a dettagliare l'esame di crescenza e così fece pure lui, Don Pasquale Cattaneo, e pensò tra sé e sé. Questa vita spirituale a volte sembra come arrampicarsi sui vetri. E così continuava a pensare a questo fatto. arrivato a San Giovanni Rotondo quando arrivò il suo turno si inginocciò per la confessione davanti al Padre Pio. E Padre Pio tra il divertito e il faceto gli disse sì che questa vita spirituale a volte sembra come arrampicarsi sui vetri. Cioè sembrava aver letto il suo pensiero a distanza. A distanza e non un minuto fa. Come si stava là allora era... non lo so, questa continuità di contatti con i figli spirituali. Questo è un esempio di suo contatto che non cedeva mai. Io devo aiutare e basta. E questo lo farò senza interruzione. E questa era la sua attitudine. È capitato di fare esperienza di questa capacità di Padre Pio di vedere e di sentire tutto anche a un religioso che aveva un ruolo particolare. Era stato mandato dal Papa da Papa Benedetto XV a San Giovanni Rotondo. Ecco, noi sappiamo che Padre Pio riceveva il convento. Noi sappiamo che il convento ricevette tanti visitatori da Roma per una ragione o per l'altra. Ma ci stavano sempre alcuni che erano diffidenti ma soprattutto che non sapevano le cose e quindi erano giustamente diffidenti. Ma di che si tratta? Può essere mai a questo e a quello. Comunque, il Papa Benedetto XV disse un giorno a un vescovo che cercava di metterlo in guardia contro quel truffatore che sarebbe Padre Pio, diceva. Perché qualcuno lo definiva così. Sì, lo definivano così. Il Papa aveva le sue esperienze e quindi disse al vescovo figlio mio certamente voi siete male informato io vi consiglio vivamente di andare sul posto per vedere con i vostri propri occhi. E così i desideri del Papa sono ordini e qualche giorno dopo senza dirlo a nessuno il Monsignore prese il treno per Foggia. Questo è uno dei fatti classici riportato dalla signora Wynowska la signora polacca che sette tanto tempo a San Giovanni Rotondo e riportò questo fatto. e così il Monsignore arrivò alla stazione di Foggia. Appena sceso dalla stazione vede venirsi incontro due cappuccini che lo salutarono con rispetto e dissero benvenuto eccellenza Padre Pio ci manda per accompagnarvi a San Giovanni Rotondo. ma Padre Pio non sa nulla del mio viaggio di certo ne è stato informato ha risposto dei frati ha detto che è il Papa che vi manda ci fu un momento di silenzio e poi il Monsignore si voltò e andò a prendere il primo treno per tornare a Roma. Un'esperienza simile l'ha fatta anche un padre passionista che fu mandato da Papa Benedetto X V da Papa dalla Chiesa questo era il cognome del pontefice e anche lui fece un'esperienza particolare alla stazione di Foggia grazie proprio a questa capacità da parte di Padre Pio di conoscere le cose a distanza ecco ce lo racconti il caso del padre Luigi Bessi il passionista lui era molto conosciuto perché aveva era postulatore delle cause di beatificazione di San Gabriele della Dallorata e anche della futura Santa Gemma Galgani era collaboratore del cardinale Gasparri era molto stimato dal Papa Benedetto X V quindi lui sapeva tanto della santità perché l'aveva studiato sui libri e l'aveva visto con questi due santi e così viaggiò in incognito e quando arrivò alla stazione di Foggia un cappuccino gli si avvicinò e lo invitò a salire su una carrozza il padre Bessi rimase sorpreso perché nessuno doveva sapere della sua visita il cappuccino gli confidò che era stato padre Pio ad avvertire che oggi a Foggia sarebbe arrivato un padre passionista inviato dal Papa padre Bessi si trattene molti giorni a San Giovanni Rotondo ricavando un'ottima impressione di padre Pio e al suo ritorno disse che padre Pio era un privilegiato da Dio come la Gemma Galgani anzi di più e quindi questi sono alcuni dei doni che padre Pio aveva ma continueremo a parlare di questo nella prossima puntata grazie a tutti